Una domanda che viene naturale è quanti sono i caratteri tipografici? Quante tipologie di caratteri esistono? Con l'avvento dei programmi di videoscrittura, tipo Word, e della grafica digitale, i font sono diventati di uso comune per chiunque utilizzi un computer. Cosa c'è di più semplice infatti che scegliere il font da utilizzare scorrendo la tendina dei font? Quando si scorre quell'elenco si vedono moltissimi caratteri tipografici, completamente diversi l'uno dall'altro. Spesso si potrebbe pensare che quei caratteri siano così diversi perché chi li aveva progettati semplicemente voleva fare qualcosa di diverso dagli altri. Beh, non è proprio così. Il motivo per cui esistono tanti caratteri diversi è perché sono stati progettati momenti storici diversi nei quali si avevano diverse necessità stilistiche e diverse possibilità tecnologiche. Ad esempio i font bastoni, cioè quelli senza grazie, sans serif, praticamente non esistevano fino a circa un secolo fa. E anche all'interno dei font graziati, serif, ci sono numerose categorie in cui l'aspetto estetico è dipendente dal periodo storico in cui sono stati creati. Ogni font è composto in modo diverso, ha diverse caratteristiche, a diverse dimensioni, a diverse forme ed esprime diverse sensazioni. Un font ha un proprio carattere, se mi permettete il gioco di parole. Detto questo, si possono categorizzare i vari fonti in due sottocategorie principali, i caratteri serif o graziati o sans serif o bastoni. Cosa sono le grazie in un font? Serif significa grazia, ovvero quegli allungamenti solitamente ortogonali all'estremità del carattere. Vengono utilizzate per rendere il carattere più aggraziato, più elegante. Le grazie hanno un'origine molto antica, perché nascono dal carattere lapidario romano, una forma di scrittura dell'epoca latina. Le grazie permettevano quindi una più facile incisione sulla pietra. Nel corso della tipografia si sono sviluppate diverse sottofamiglie di font serif, ognuna delle quali riflette un certo periodo storico in cui si usavano caratteri tipografici con caratteristiche leggermente diverse, a volte dovute agli strumenti usati, altre volte alle mode e tendenze dell'epoca. Gli old style sono la prima categoria di caratteri serif, procedendo in ordine storico. Questa categoria è a sua volta divisa tra i veneziani o umanisti, come il centaur, e i garald o romani antichi, come il garamont. I font veneziani umanisti avevano l'altezza dell'occhio del font relativamente piccola, un basso contrasto tra linee spesse e sottili, aste trasversali inclinate nella E, minuscole, e un colore molto scuro, inteso come l'effetto generato dalla densità di inchiostro stampato su una pagina. I font garald sostituirono poi i font veneziani umanisti, perché garantivano una lettura più scorrevole, sono infatti caratterizzati da un maggiore contrasto tra linee spesse e sottili, e da una maggiore rifinitura dei tratti, come si può notare, ad esempio, della presenza di grazie più dritte appuntite, quasi cuneiformi. I transizionali, dei quali il primo è stato il Baskervid del 1757, sono una categoria che raggruppa font molto popolari, ma di più recente progettazione, come il Times New Roman, il Cheltenham e il Georgia. I font transizionali furono fortemente caratterizzati dall'illia illuminista di rigoroso ordine. Infatti si cercò di allontanarsi dalla scrittura manuale, dando maggior precisione ai segni grafici. I transizionali, chiamati così perché situati storicamente fra i romani antichi e i romani moderni, si differenziano dai romani antichi grazie a forme più geometriche, a un contrasto maggiore tra aste verticali e orizzontali, da grazie più appiattite e da un allineamento più verticale negli occhielli delle lettere. Successivamente, tra fine Settecento e inizio Ottocento, arrivarono i bodoni, che prendono nome dall'omonimo font, in inglese e francese vengono detti anche di doniani, dal font di Do, e un po' dappertutto sono anche chiamati romani moderni. Proseguono nella ricerca di geometricità iniziata dai font tradizionali e dal Baskerville. Hanno un passaggio molto marcato tra aste verticali e orizzontali e possedono grazie molto fini e sottili che formano angoli retti con le aste. Questa categoria include caratteri tipografici progettati dopo il font Clarendon, presentato per la prima volta a metà del XIX secolo. I Clarendons sono stati progettati come caratteri tipografici audaci per accompagnare la composizione del testo. Il loro contrasto è lieve, le grazie tendono ad essere di lunghezza da corta a media. Successivamente, molti di questi fonts sono stati rilasciati con dimensioni di punti più grandi, come display font. Il peso del tratto del carattere e le grazie tendono ad essere più lunghe rispetto ai progetti precedenti, indicando interpretazioni più attuali di questo stile. Con la diffusione delle tecniche di stampa, i font iniziarono ad aumentare vertiginosamente e arrivarono gli slab serif o egiziani. La definizione egiziani deriva da una circostanza abbastanza fortuita. All'epoca in cui inizialmente apparvero, l'antico Egitto era parecchio di moda. I tipografi decisero quindi, molto semplicemente, di utilizzare un termine che all'epoca era sulla bocca di tutti. La pubblicità è stato il fattore determinante della crescita di questa tipologia di font. Si sono infatti diffusi grazie alle crescenti necessità creative dell'advertising, il quale si stava sviluppando proprio in quegli anni. Questi font si distinguono per un utilizzo estremo del contrasto e dall'utilizzo di grazie perpendicolari e molto sottili, ovvero caratteristiche volte solamente a catturare l'attenzione e non a garantire leggibilità. Proprio per questi motivi furono molto criticati in quel periodo storico, per aver contribuito a rovinare la buona tipografia. I caratteri tipografici in questa categoria tendono a emulare le riscrizioni lapidarie, piuttosto che il testo disegnato a penna. Il contrasto è in genere minimo e l'asse delle curve del tratto tende ad essere verticale. La caratteristica distintiva in questi caratteri tipografici è il design triangolare. In alcuni tipi di sistemi di classificazione questa categoria è suddivisa in due gruppi, glyphic e latin. Latini sono fonts con grazie estrettamente triangolari. I font che appartengono alla categoria sans serif, detti anche bastoni, non sono sempre esistiti ma sono nati in Inghilterra durante l'Ottocento, parallelamente ai font egiziani, e inizialmente vennero usati con gli stessi scopi, pubblicità, industria e per distinguersi. Il termine sans serif sembra essere stato coniato dal tipografo Vincent Figgins, al quale tra l'altro viene anche attribuita la creazione del primo font slab serif, l'antique, nel 1815. I caratteri sans serif creati fra il XIX secolo e i primi due decenni del XX prendono il nome nelle classificazioni moderne di groteschi. grotteschi. Il motivo di questa denominazione è derivante proprio dalla parola italiana grottesco che all'epoca veniva utilizzata per indicare qualcosa di mostruoso o di aberrante, legato alle grotte e quindi all'assenza di civiltà. Questi caratteri grotteschi sono caratterizzati, oltre che dall'assenza di grazie, da alcune significative peculiarità. Aste verticale delle lettere e forma tendenzialmente squadrata delle curve, scarso ma presente, contrasto visivo. Molti caratteri grotteschi hanno una G maiuscola caratterizzata da uno spuntone che genera la forma di una freccia, una G minuscola caratterizzata dalla presenza dell'occhiello inferiore e o una R con la gamba incurvata. Alcuni font grotteschi possono essere considerati l'accident grotteschi, il franklin gothic, il johnston sans e il gilin sans. Gli ultimi due vengono spesso categorizzati anche come font neotradizionalisti o neomanisti perché ispirate alle forme degli antichi font umanisti ritenuti più naturali e leggibili. I neogrotteschi sono quei font che hanno le stesse caratteristiche dei font grotteschi, di fine ottocenti, ma sono stati progettati a partire dal secondo dopoguerra, rispondendo alle esigenze del moderno graphic design e del crescente mondo digitale. Gli esempi più famosi sono l'Universe e l'Elvetica, entrambi degli anni 50 e svizzeri. Questi font si distinguono dai classici grotteschi per alcuni dettagli come una maggior geometricità, una G minuscola senza l'occhiello inferiore e la presenza di numerose varianti di peso strutturati all'interno di una famiglia di font. Negli anni 20 e 30 del Novecento, assieme a quei caratteri sans serif neotradizionalisti come il Gil Sanz e il Johnston Sanz, nascono anche i sans serif geometrici, spinti dalle rivoluzioni artistiche nate attorno alla scuola del Bauhaus e a movimenti come il De Style olandese. Tra tutti i caratteri geometrici non si può non citare il più famoso di tutti, quello che ancora oggi è tra i più caratteri più amati, il Futura, del tedesco Paul Renner. Il Futura viene creato nel 1928 ed è considerato il capostipite dei caratteri sans serif geometrici. Infatti è basato sulle tre forme geometriche di base, il cerchio, il quadrato e il triangolo. Oltre ai serif e ai sans serif e alle loro sottocategorie, esistono svariate altre famiglie di caratteri. I caratteri gotici Johannes Gutenberg inventò, come sappiamo tutti, la stampa caratteri mobili e le prime lettere stampate sulla Bibbia di Gutenberg furono le black letter, ovvero quelle di stile gotico. Esistono tre diverse categorie di font di stile gotico. I Textura, o Old English, assomigliano maggiormente alla calligrafia usata nella copiatura manuale dei libri. È la tipologia usata da Gutenberg nel 1455. I Schwabacher, usati in Germania dal 1480 al 1530, rimasero in uso occasionalmente fino al XX secolo. Massimiliano I, nel 1513, commissionò per la pubblicazione di alcuni libri i caratteri Fractur, che sono stati più utilizzati e frequenti. Il veto nazista del 1942 interrompe l'uso di questa tipologia di caratteri. I caratteri gotici non sono più usati da nessuna parte, se non per casi particolari o per decorazioni. Un uso che tuttavia è rimasto è quello dell'utilizzo di caratteri gotici per le testate o i loghi dei quotidiani. Tra le varie famiglie di caratteri bisogna assolutamente citare i cosiddetti script. Si tratta di caratteri che sostanzialmente simulano la calligrafia e la scrittura manuale, in varie modalità diverse. Sono generalmente poco leggibili e da usare solo in casi davvero particolari. Questa è la categoria più ampia e anche la più diversificata. Raramente usati per lunghi blocchi di testo, i caratteri decorativi sono molto apprezzati per la segnaletica, i titoli e situazioni simili, se si desidera una forte affermazione tipografica. Spesso riflettono un aspetto della cultura, come i tatuaggi o graffiti, o evocano un particolare stato mentale, un periodo di tempo o un tema. Molti, come i disegni, psichedelici o grange, sono sensibili al fattore tempo e cadono fuori moda. Alcuni tipi di caratteri decorativi utilizzano forme e proporzioni di lettere non ortodosse per ottenere risultati distintivi e drammatici. Alcuni addirittura appaiono tridimensionali. Per oggi è tutto, vi aspetto al prossimo video. Buona giornata!